Ragazzi, nella parte 2 di Venom, dopo andremo a continuarlo, oggi vi farò vedere come finirlo. La mandibola è la mia preferita perché è stupenda, quando fai il labbro è proprio bella. Allora, prima di tutto cominciate a sfumare qua, in maniera da esaltare la mandibola, da dargli, come ho detto nel primo video, un po' di ombra, una tridimensionalità, e ripassate un po' il tutto. Mi raccomando, ragazzi. Il labbro deve essere un po' messo male, perché ovviamente è Venom, si sa. È una specie di mostro, per chi non l'avesse visto, guardate il film perché è molto carino. Tra l'altro, l'ultimo film uscito è La furia di Carnage, è proprio bello, io l'ho visto al cinema. Ragazzi, se non lo vedete, perdete un bel film, è proprio bello. Vabbè, comunque, ritornando a noi, comincerete qua a sfumare, soprattutto sui bordi, mi raccomando. Bene, se avete fatto questo passaggio, allora la mandibola l'avete già come fatta. Poi ecco di nuovo la testa, eccola qua, la bella testa pelata del nostro Venom. Ah, e mi raccomando, ragazzi, voi non siate frettolosi. Scusate per la mia velocità, magari ricomincio a fare un po' più lento per farvi vedere i passaggi. Ebbene, per ora la testa di Venom l'abbiamo finita. Perfetto. Dopodiché dovremo fare le spalle e il collo. E poi fate un bel mezzo cerchio, oggi siamo proprio innamorati con questi cerchi. E lo collegate alla mascella. Bene, dopo aver collegato il tutto... Ah, e ragazzi, mi raccomando, ripassatelo, eh. Se no non gli date tridimensionalità. Comunque comincerete a fare questa roba. Cioè che sono le sue arterie. Tra parentesi, è un mostro, quindi... Non sono proprio come quelle umane. Quindi facciamogliele simili. Giusto per rendere che è un po' più arrabbiato. Perché quando uno si arrabbia, si gonfiano le vene. Che puzza al sangue. Che tra l'altro non so se lui abbia sangue. Non mi sembra. Mi sembra abbia tipo una melma nera. Una specie, sì. Che poi lui è formato da melva nera. Comunque non vi spoilero il film, se non l'avete visto. Bene, dopo averlo completato, spero vi venga così. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere. E mi raccomando, commentate, lasciate like. E iscrivetevi al canale. Ciao!